Sono lieto di accogliere all'incontro di pace e cultura Matera Altamura Bari. Il pane è come simbolo di pace e fratellanza, ma anche di tradizione e cultura. L'associazione materana Italia Trade 2013 ha portato in dono a Papa Francesco il prodotto simbolo della terra, specie quella del sud. Dobbiamo parlare di territorio, in quanto credo che abbiamo un territorio così forte sotto il punto di vista di quello che può essere la filiera legata al mondo del pane, del grano, pasta, voglio dire, sicuramente dobbiamo parlare di territorio. Quindi le vie del grano che diventano anche strumento di cultura, di diffusione, è un messaggio. Bene, di fatti, l'Italia Trade 2013 di Matera è un'associazione che si occupa di cultura. Il nostro è un progetto in cui crediamo perché attraverso la cultura possiamo recuperare il valore umano. L'iniziativa che ha portato all'udienza del mercoledì in piazza San Pietro centinaia e centinaia di lucani, pugliesi e calabresi è stata resa possibile grazie anche al supporto delle Camere di Commercio di Matera e Bari. Siete riusciti a consegnare un pezzo di pane a Papa Francesco? Abbiamo fatto la consegna, l'abbiamo fatto attraverso le linee che ci hanno suggerito, sicuramente è arrivato al Papa.